Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un solo money glitch Il solo money glitch in cui andremo a fare un rapido ripassino Anche perché questo qui è il money glitch per chi ha meno soldi Chi ha la clubhouse Per fare questo glitch la meccanica è la stessa del glitch di prima ragazzi Né di più né di meno Quindi chiamate il vostro pericolo speciale Che sia il blazer acqua o che sia una deluxo Se usate una deluxo Ogni volta dovrete baggarvi ragazzi Cioè fare questo passaggio che sto facendo io Io lo sto mandando in velocità perché mi ha richiesto un pochino di tempo Però eccolo qui Allora che cosa dovete fare? Andate vicino a un appartamento Vicino a un ceo O che cazzo prepara a voi E avviate due volte Il colpo domos dei Il primo colpo domos dei Il primo insomma Il colpo domos dei Quello che capita Fino a che non vi capita il popolamento della sala Come è capitato Quando capita il popolamento della sala Prendete e vi avviate subito verso il pallino azzurro E dopo correte verso l'attività Come nel video che ho fatto poco fa È la stessa cosa ragazzi Io qui mi sono sbaggato e mi sono ribaggato Per vedere se ancora funzionava Quindi adesso vi faccio vedere la data e l'ora Perché lo faccio sempre Quindi non vedo perché in questo video non avrei dovuto E quindi passiamo al glitch Come avete visto io mi sono baggato Adesso andiamo allo Santos Custom E andiamo Vedete? Sono baggato Andiamo allo Santos Custom E andiamo a entrare e uscire In questo caso Io dovrò riparare sicuramente Ho dato qualche Ecco Se non l'avevo dato prima l'ho dato adesso E vabbè Andremo a riparare e andremo ad uscire Dopodiché andremo nella nostra Clubhouse E andremo a fare il glitch ragazzi Una volta nella Clubhouse ragazzi Tenete a mente che la Clubhouse deve essere piena E deve contenere il veicolo che volete duplicare In questo caso una Diabolus Consiglio una Diabolus Più tutte faggio ragazzi Io qui me ne mancava una E vado a comprarla Per riempire la Clubhouse Non è importante se ve la consegna nel tempo che voi state facendo il glitch L'importante è che la Clubhouse sia piena E che quando voi rientrate nella Clubhouse Appaia il messaggio pieno Quindi a questo punto salite sulla moto Premete freccia destra Entrate nell'officina Fate un cambio lucido Perché comunque questa moto non ha targa Però quando la modificate inizialmente Mettete lì una targa personalizzata ragazzi E uscite E uscite dalla Clubhouse Cioè non dalla Clubhouse Uscite dall'officina Andate sul punto azzurro E scambiate la moto che avete appena duplicato Con una faggio Una volta fatto ciò L'ultimo passo sarà semplicissimo ragazzi Salite sulla moto che avete appena duplicato Che è quella che rimarrà nella sua posizione Premete freccia destra Vi riporterà dentro l'officina Ma non potete fare nulla Andrete fuori dall'officina Una volta fuori dall'officina L'unica cosa che dovete fare È aprire il telefono E avviare il colpo di lester Ragazzi come sto facendo io Per poter teletrasportare fuori dalla Clubhouse Il veicolo che abbiamo duplicato Una volta fatto ciò Avremo fuori dal nostro appartamento Il veicolo che abbiamo appena duplicato Scusate se lo mando in velocità Ma tanto è un breve riassunto Per far vedere un po' a tutti Come va questo glitch E come funziona Anche se penso che sia abbastanza comprensibile Eppure sei in velocità E quindi una volta che abbiamo Il nostro clone fuori dall'Eclipse Tower L'unica cosa che dobbiamo fare È riportare il clone nella Clubhouse Oppure in un garage pieno Che sia pieno ragazzi Altrimenti rimarrete incartati Nella schermata nera E dovrete riavviare il gioco O sospendere l'applicazione Come vedete qui ci sono due clone Li abbiamo appena fatti E potremo continuare il glitch Perché in questo caso saremo rimasti buggati E l'unica cosa che dobbiamo fare È richiamare il nostro Il nostro blazer acqua O il nostro veicolo speciale Che vogliamo utilizzare Per fare la duplicazione Qui ragazzi vi faccio vedere nuovamente la data Ovviamente date ora Ovviamente non state lì a guarda l'ora Perché comunque ho mandato molto in velocità il video Quindi qualche minuto penso che se lo sia mangiato la velocità E a questo punto il nostro blazer acqua respawnerà E noi saremo pronti per fare il glitch E in caso voi volesse una targa pulita E lì a quel punto dovrete ripetere ogni volta il bug Detto questo un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti